Dottor Rocchinegro, l'impatto della guerra e l'impatto della pandemia sull'olio d'oliva, quanto hanno inciso? Beh, sicuramente hanno inciso parecchio. Già la pandemia aveva portato a un cambiamento anche dei consumi, aveva spostato anche e ha fatto esplodere l'e-commerce, per esempio, molte aziende non erano neanche attrezzate per il commercio elettronico e quindi si sono attivate per poter, quindi una cosa positiva in quel caso. Invece, purtroppo, il fenomeno della guerra, ciò che si sta verificando adesso tra l'Ucraina e la Russia, ha creato dei problemi seri perché, poiché l'Ucraina è un forte produttore di olio di semi di girasole, e quindi questo ha comportato a catena un aumento dei prezzi, perché per mancanza di prodotto, di tutta la gamma degli olio di semi e poi questo aumento dei prezzi si è trasferito anche sull'olio di oliva, che sono aumentati di prezzo in maniera anche sensibile, a partire dall'olio, per esempio, un prodotto che non si trova tantissimo nella grande distribuzione, che è l'olio di sansa di oliva, che si è triplicato perché è diretto sostituto e concorrente degli olio di semi, ma anche sul prodotto olio di oliva, che è cresciuto in maniera come prezzo, in maniera considerevole e quindi creando una contrazione dei consumi. Tutto questo si è trascinato poi sugli oli extravergici di oliva, che hanno avuto, altresì, anche degli aumenti di prezzo e quindi questo comporta, logicamente, sicuramente una contrazione dei consumi che già si è verificata quando c'è stata la pandemia, c'è stata una minima contrazione dei consumi e questa volta questa contrazione dei consumi credo che si stia verificando per una questione di prezzo, per cui le grandi catene dei supermercati cercano di fare dell'oro con scontistiche, promozioni, eccetera, però risulta difficile pagare molto più caro un olio di uso quotidiano nelle famiglie italiane. Quindi questo sicuramente vedremo un attimo gli effetti e auguriamoci che ci siano dei miglioramenti. In tutto questo c'è anche l'aumento di altri costi, costi energetici e quindi costi degli imballaggi, del packaging, quindi tutto questo, aumento dell'olio per effetto dell'aumento del prezzo di olio di semi, aumento degli imballaggi per effetto della carenza di prodotto, sia della pandemia per i trasporti, mancanza di trasporto, ma anche per l'effetto della guerra, cioè tutta una serie di fattori negativi che hanno inciso sull'aumento del prezzo e quindi chiaramente hanno portato a una contrazione dei consumi delle famiglie italiane.